si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento la battuta di Lavalle e la palla in rete grandissimo gol di Juan Martin Lavalle e Tarros in vantaggio al diciassettesimo minuto la parabola che non lascia scampo a Melis si sblocca la gara del comunale sono tutti al limite dell'area arriva il cross interessante secondo palo è gol è gol incredibile è gol di Lavalle per il 2-0 che ha sorpreso tutti traiettoria velenosissima fa capire quanto voluto battuta di Cabasino in avanti recupera Lavalle Lavalle dentro per Andrea Sanna attenzione la posizione è regolare Sanna davanti al portiere ci mette la punta per Lavalle e la Tarros trova il 2-0 ancora una volta troppo blanda la difesa del Taloro ne ha approfittato Andrea Sanna che ha rinunciato alla conclusione dentro per Juan Martin Lavalle e all'ottavo minuto di gioco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.